Allora, lei è autore del libro Fox, che presentiamo stasera, da dove viene? Da Castellabate, il libro però è ambientato nel comune di Pollica, prevalentemente tra Pioppi e Aceroli, comunque nel Cilento, perché io ci tengo a promuovere nei miei libri il Cilento. E quindi la promozione come avviene? La promozione avviene facendo conoscere i luoghi, diciamo, i miei, nel mio cuore, attraverso i miei libri in giro per l'Italia e anche fuori, diciamo, grazie alla fine. Questo è il ventiduesimo libro che ho pubblicato. E' lo? Ventiduesimo. Quindi? Tra poesia, prosa, di vari generi letterari, secondo me. Molto apprezzionato a questo libro, eh? Ovviamente sì, come a tutti i libri, sono come a tutti i figli, naturalmente, questo in modo particolare, perché è stato scritto anche nel periodo pandemico e quindi c'era una valenza ancora maggiore. E' medico? Sono neopsichiatra, neuropsichiatra. Medico neuropsichiatra. Dove sborce? Eboli. Ah, Eboli? Sì. Ah, quindi? Sì. Va bene, ok. Grazie.